ah porca di quella puttana oggi siamo qui e sono come si dice sai che quella sensazione del tipo da un punto di vista sei incazzato vorresti distruggere tutto ma dall'altro punto di vista no cioè alla fine non puoi nemmeno lamentarti quindi andiamo per ordine ragazzi andiamo per ordine primo mi manca un pochino la voce probabilmente si sente ma a parte quello secondo ragazzi sta per arrivare il momento sta per arrivare l'incredibile fine di questa incredibile attesa finalmente fnaf security breach sta per no no non sta per uscire mi dispiace ragazzi perché non ci hanno ancora dato una fottuta release date pensavate voi che sarebbe uscita la release date oggi pensavate addirittura alcuni pensavano che oggi sarebbe uscito fnaf security breach proprio il gioco e invece ve la siete pegliata nel culo volete sapere la verità pure io perché anche io speravo che ci sarebbe stato un po' di gameplay footage un po' di una release date qualcosa una data di uscita niente non c'è stato un cazzo c'è stato letteralmente il sequel di quello che era il teaser che avevamo già avuto quindi semplicemente visuali delle stanze e niente ora capiamoci è quello che state vedendo in questo momento sullo schermo è letteralmente quello quello che hanno fatto vedere oggi perché per chi non lo sapesse c'è stato tipo il direct della nvidia e hanno fatto vedere un pochino di giochi insomma che supportavano le nuove schede grafiche con le nuove funzioni eccetera eccetera l'rtx e cose così io non me ne intendo troppo sta di fatto ragazzi che naturalmente hanno mostrato anche fnaf security breach perché dico naturalmente perché già dal vecchio teaser avevamo visto che le grafiche erano eccezionali e solo effettivamente così nel mio video si vede anche un pochino in bassa qualità perché io comunque carico i video purtroppo per adesso almeno in 7.20 quando mi farò un computer migliore potrò caricare anche in 1080 e non è lontano quel giorno ragazzi sto effettivamente per farmi un computer migliore ma a parte questo ragazzi sì in sostanza il gioco ha delle grafiche fighe e quindi naturalmente ci saranno anche delle cose fighe che può sopportare come per esempio l'rtx ma queste sono le cose che non ci interessano perché sappiamo benissimo che a noi interessa il gioco in sé la storia e mi sta andando via la voce ragazzi l'avete assistito anche voi porca puttana è difficile fare lo youtuber quindi sì in sostanza l'informazione effettivamente più pesante che ci hanno dato era che avrebbero detto queste cose da un punto di vista di grafica le grafiche fighe poi naturalmente nel trailer sentiamo anche Venni che parla ma Venni in compenso non dice niente di che dice robe del tipo hey Gregory senti è tardi devo metterti a letto e poi fai una risata devo dire da quel punto di vista la risata wow è letteralmente la cosa che mi ha lasciato più impressionato del footage che abbiamo visto perché cazzo è brava la doppiatrice ok è ovvio che sentendo magari tutti i filtri che ci sono comunque nella voce per fare la voce un po' di Venni così un po' strana insomma magari la voce originale viene un pochino effettivamente intaccata quindi non può pensare però poi senti la risata e pensi sì 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 questa è una doppiatrice che wow o almeno così sembra poi dopo ripeto queste sono delle cose che mi immagino adesso che il gioco non è ancora uscito ma per il resto naturalmente nel trailer si vedono anche altre cose per esempio si vedono dei robot che sono come dei camerieri e tecnicamente adesso non si sa se questi robot effettivamente faranno qualcosa in particolare oppure no per me la maggior parte no ma ce ne sarà tipo almeno uno che sarà una specie tipo di Candy Cadet non so se mi spiego cioè non sarà Candy Cadet però ci aiuterà da un punto di vista di storia ok anche semplicemente aiutarci a fare qualcosa sarà tipo quell'unico robot tra tutti gli altri robot che non sono senzienti a essere senziente l'unico cameriere più che altro perché è ovvio che sappiamo che il compesso altri robot come eventualmente i Glamrock saranno senzienti ma quella è un'altra storia quello lo sappiamo già è il mondo di FNAF senza robot senzienti non avrebbe il minimo senso e quindi ok a parte questo più che altro sì devo dire la verità potevano mettere un po' di più eh potevano davvero mettere un po' di più in questo footage che hanno mostrato capisco tutto quello che ci aveva anche raccontato Scott se vi ricordate aveva fatto il post in cui ci aveva detto sì ragazzi ero andato dalla Steel Wall e ho fatto vedere come procede il gioco e la Steel Wall ha detto senti guarda questo è il gioco noi possiamo fare una roba molto figa ok se non vuoi che facciamo la roba figa te lo facciamo uscire adesso così come va fa un po' schifo se vuoi che facciamo una roba figa ci vorrà un po' di più per farlo uscire e Scott ha detto ok facciamo una roba figa posso dire la verità sono molto contento che abbia detto così aveva detto così anche con FNAF VR e siamo stati molto contenti perciò ragazzi da quel punto di vista a posto per me il gioco può uscire anche tra 30 anni per voi no perché eventualmente volete l'ultimate timeline io lo so mi avete abbastanza scartavetrati i coglioni siete stati anche un po' irrispettosi però capiamoci ragazzi se il gioco deve uscire deve essere fatto fatto bene perciò con tutto il tempo che ci vogliono mettere ce lo mettessero ma voglio che esca bene il gioco ok anche perché altrimenti faccio un bel video dove lo spalo lo spalo proprio in mezzo alla merda cioè di realtà sono un pochino incazzato ragazzi perché mercoledì sarebbe dovuto uscire un video ma sta di fatto che l'ho dovuto spostare per via di di questa roba qua perché pensavo tipo wow sarà qualcosa di grande e invece no però sta di fatto che alla fine abbiamo trovato da parlare in ogni caso ovvero che porca puttana Steve Will Studios ci stai rilasciando patatine ok patatine cioè un pacchetto alla volta così io mangio le patatine sai com'è quando finisci di mangiare le patatine finisci di mangiarle e pensi cazzo ne voglio ancora poi dopo ti prendi un altro sacchetto ma è uguale al sacchetto di prima cioè non è che ti hanno magari ti dessero tipo delle patatine quelle con la paprika poi quelle al lime poi quelle non so ci sono tanti tipi diversi di patatine capite quindi man mano sono sempre patatine però ognuna è diversa no stavolta ci hanno letteralmente riproposto la stessa identica cosa non è praticamente cambiato niente abbiamo visto giusto due tre stanze diverse tipo anzi dire la verità questo footage è stato quasi meno rilevante rispetto a quello che abbiamo visto l'ultima volta perché Venni non dice niente di che probabilmente verranno trovati dei segreti dentro questo footage che io non ho men che minimamente visto perché è tipo uscito poco fa sono tipo le 6.55 ragazzi se qualcuno trova questa roba io no non ce la faccio un altro video sopra ragazzi mi piacerebbe però beh oddio oddio allora no fermi capiamoci se qualcuno trova questa roba prima della fine di questa settimana allora io in questa stessa settimana riesco a farci sopra un video in cui ne parlo se invece lo trova dopo allora mi dispiace ma non ci posso fare niente ok io almeno non ho trovato niente me lo sono già riguardato un paio di volte non ho visto niente di che poi c'è sempre quella persona che ha l'occhio da falco e vede quel qualcosa che nessun altro ha visto però insomma bisogna anche non lo so ragazzi sta di fatto che a questo punto vi chiederete ma Harry ma perché non farai un altro video se esce dopo una settimana sta roba beh amici miei perché nelle prossime settimane dal mercoledì della prossima settimana per ogni mercoledì delle varie settimane che seguiranno fino a circa metà febbraio usciranno robe ok usciranno delle robe molto importanti davvero molto importanti ma tipo molto importanti e sono davvero importanti robe importanti dei video uno ogni mercoledì a partire dal prossimo mercoledì ogni mercoledì fino a metà febbraio di mercoledì roba importante video importanti davvero roba molto importante non dovete perderveli sono dei video importanti non capirete niente se ve li perderete e voi volete capire perciò non dovete perdervi quei video sono davvero importanti guardateli ragazzi avranno titoli strani lo noterete ci saranno i puntini di sospensione le thumbnail potrebbero essere strane avevo anche rilasciato la thumbnail di quello che dovevo uscire domani per sbaglio perché cioè no in realtà cioè no non è per sbaglio in realtà volevo effettivamente mostrarla solo che poi dopo è uscita sta roba di fnaf e io l'ho tolta e ho detto scusate lo faccio uscire la settimana dopo però alla fine non è stato un cazzo perciò ok vabbè ragazzi mi grazie scott grazie scott che mi rivini sempre ai piani ma ragazzi è importante è importante è davvero importante non perdetevi i prossimi video sono davvero importanti ragazzi non perdetevi i prossimi video sono molto importanti sono davvero importanti ok va bene ho smesso di fare sta roba dunque cosa abbiamo da dire riguardo a security breach avrà delle belle grafiche? certo uscirà tipo cyberpunk che sarà tutto buggato nonostante le belle grafiche? spero vivamente di no spero vivamente di no era successo anche con fnaf AR e mi ci sono accannito sopra un pochino non troppo perché il gioco in se poi dopo è migliorato e ok ma all'inizio l'hanno fatto uscire tutto buggato e perciò meh quindi speriamo vivamente che stiamo utilizzando questo tempo per fare qualcosa di concreto ok ora diciamoci la verità siamo rimasti un pochino delusi anche per via del fatto che noi ci aspettavamo molto di più appunto ci aspettavamo una data di rilascio ci aspettavamo che avrebbero fatto vedere un po' di gameplay invece no hanno fatto letteralmente lo stesso trailer dell'ultima volta ma con inquadrature diverse eeeh si avrebbero effettivamente potuto fare un po' di più ma loro non hanno mai detto che avrebbero fatto qualcosa di più semplicemente hanno detto hey ragazzi guardate là l'evento della nvidia gtx rtx eccetera eccetera perché deve uscire roba di fnaf cioè questo hanno detto non hanno mai detto che sarebbe stato qualcosa di più grande o di diverso eeeh si l'hanno detto come se dovesse far intendere che ci sarebbe stato qualcosa di più perciò magari da quel punto di vista potevano migliorare però vabbè vabbè ragazzi non hanno effettivamente mai detto sta cosa ok non hanno effettivamente mai detto che avrebbero mostrato niente di che perciò da quel punto di vista non possiamo dire niente da quel punto di vista ok però diciamoci anche la verità steve wall da retta a me fai uscire un pochino più di roba fai vedere qualcosa di succulento ok fai vedere qualcosa di succulento ma di davvero succulento tipo i glam rock animatronici facceli vedere in un teaser in un trailer qualcosa dovrà eventualmente uscire il trailer ufficiale e le mi aspetto che si vedrà la maggior parte della roba però facci vedere almeno degli screen dei teaserini proprio immagini anche in bassa risoluzione di cose che si vedono in lontananza piccoline proprio due pixel ok ma facceli vedere ma qualcosina proprio ma piccolina ma non chiediamo mica la luna oddio c'è moon man perciò è data ok c'è la luna però è un'altra storia e che cazzo voglio dire scusa c'è un gioco va teaserato bene parliamo di come scott faceva i teaser per i suoi vecchi giochi rilasciava le varie immagini eventualmente un pochino di footage poi la però appunto ok cioè immagini poi arriva il trailer e poi il gioco cioè non ha mai rilasciato più di quello che doveva rilasciare però allo stesso tempo ha rilasciato tanta roba diciamoci la verità cioè vi ricordate anche con sister location cazzo ogni singola cosa che usciva c'era quel piccolo particolare quella piccola cosa cioè c'è Scott deve tornare a occuparsi dei teaser ok Scott deve tornare a occuparsi dei teaser molto importante è molto importante che Scott continui a occuparsi dei teaser ok non fatelo fare alle aziende sono bravo a fare i giochi sì assolutamente sì la steel wool è molto valida è molto brava sta facendo qualcosa di epico mi aspetto qualcosa di epico però Scott per favore ricomincia a farli ti ai teaser te eri bravo a farli teaser per favore farli ti ai teaser Scott fai i teaser ascoltami fai i teaser è andata di nuovo quindi questo è il concetto ragazzi abbiamo ricevuto quello che ci avevano detto noi ci aspettavamo qualcosa di più ma alla fine non c'è stato speriamo che ci sia in futuro ci sono delle effettive nuove informazioni tecnicamente no ci sono effettivamente nuovi sbocchi di lord da quale prendere effettivamente no perciò l'unica cosa che c'è da fare è aspettare nuovi teaser e soprattutto aspettare i video delle prossime settimane ragazzi ogni mercoledì uscirà un video saranno molto importanti la smetto la smetto la smetto vi giuro la smetto detto questo ragazzi direi che posso anche salutarvi qui perciò io spero che questo video vi sia piaciuto sempre vi sia piaciuto saluto di questo ragazzi ciao